Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo The Dark Heart of Balor. Ok, la prima cosa da fare è metterci comodi, perché è la prima volta che lo proviamo, e andare sulle opzioni. Prima cosa, sound. Oh, già a metà. Abbassiamo la musica. Close. E andiamo su lingua. Ah, bene, non c'è. C'è piccinino e inglese. Non c'è la nostra lingua, quindi ce lo assorbiremo in inglese. Però vedo che è sempre forte la musica. Anche se l'ho messa a 20. C'è nelle cuffie, mi spacca le cuffie. Controlli. 1,2,3 stella. VSD. QWERT. Ah, JKPL cosa c'è da, no? Sword Attack con la JKPL. What? È tutto... Cioè, va veramente, mi stai scherzando. JKPL, Combat Attack, NMU, Movimento. Ah, ok, c'è anche il mouse. Non vedevo, signori, ho avuto paura per un attimo. Oddio, sono tornato nel 1980. Ehm... New Game. Pillars come into our world. Across the continent, rifts tear open the fabric of reality, pouring hordes of demons into our lands from the burning pits. The brutal tide of their invasion has already claimed whole kingdoms, bathing them in blood and ruin. And in the flames they spread, we feel the cruel wrath of their lord. Baelor, the archdemon of fire. While many of us were prepared to face the demon hordes, our numbers dwindle with each passing battle. I may now be the only one capable of stopping these horrors before they swallow our world. I've arrived at the edge of the forest of legends in Dalen. A siege by vile undead allied with Baelor. This place was once my home. And now it's time I take it back from these invaders. Ok, here we go. Mi è piaciuta dannatamente bella la voce del narratore. Ok? Devastante però l'audio era altissimo. Ok, allora. Crouch. Ok. Quindi è 2D. Vecchio, veramente siamo tornati all'anno 80. Va bene, va bene. Ah, io vedo qua una grafica che mi ricorda qualcosa. Che è? Come? No, dai. Ah, ecco. Così paro. Ok. Vabbè, ma se io faccio K. Ah, praticamente lui vuole per forza così. Vabbè, ho capito. Mouse parata. Però non posso fare l'attacco questo. Eh, come si fa a saltare? Ah, con lo special. Con lo space jump. Con lo space jump. Con lo space. Sei morto. Ehi. Che, che, che. Oceano questo? Ma ho premuto questo? Un paracchio? Bello. Cravoccioni. Qua? Andiamo giù. Chest. Buono. Close. Esc. Si fa, o si fa usare, sì. Ah, i pippi. Mi piace, dai. Si posso uccidere? Sì, si può fare il salto e uccidere. È bello, mi piace. Però c'è la collision. No, io ti devo uccidere. Uno. Jump, no. Cacchio, dannazione. Volevo saltare da sopra io. Per evitare... Posso salire sulla scala? Sì. Ma se premono lo shift... Corro. Lo shiftone è... Tipo... Tipo, uccidi tutti. Althreat potion. Curati. Devi andare alla massima vita. Mi piace la grotta. È qua? Eh, sapessi. Ciccio, con chi stai parlando? Allora. Vediamo, voglio vedere la parata. Oh. Morto. Eh, troppi, troppi. Oh. Non muoiono. Ma c'è un roll, un qualcosa? No, c'è solo questo. Vabbè, uno. Curiamoci, allora. Previ shift. Shift. Ma quello che fa cade? No, si butta? No. Sta lì, tutto il giorno. Shift. Saltoni. Saltoni. Secondo me si può andare anche sotto. Saloni. Se io salto di qua... E poi vado... Oh, ho fatto una cosa bellissima. Di che... Eh, è bloccata! C'è il danno alla caduta? Non lo sappiamo. Oh, e questo è brutto, è cattivo. Ahia, ho sbagliato l'altro. È un bossettino questo. Mi sta facendo malissimo. Mi è andato qua. Ecco. Allora, eh... Forse moriremo. No. Qua c'è la chiave. I found a key. Open chest. Tab. Buono. Eh, sì, sono curioso. Non peraltro, ma sono veramente curioso di sapere... Cosa c'è qua sotto. No. Qua. Ah, ecco. Devo fare così. Salta, salta. No. Dov'è la kappa? Ah, doppia sequenza con la kappa. C'è la combo. Con questa no. Invece con la kappa c'è la combo. Guarda. Eh. Qua c'è un libro. Ok. Bellissimo. Esc. Close. Si è bloccato. Ah. Devo uscire da qua. Va bene. Quindi, praticamente, devo per forza giocare con ste robe. Questa è un'altra combo. Signora, si deve giocare per forza con jkli. Potete giocare con le freccette, quindi. Eh, no, no, no. Ok. Hanno dato una sequenza di comandi. E potete scegliere quello che volete. Tipo freccette, usare la sinistra per le combo. Oppure, sinistra per il movimento e destra per le combo. Left cliff. Ok, vabbè, vabbè. Non mi piace tanto la scelta dei comandi. Però, diciamo che... Eh, counterback. Contraattacco, vai. Contraattacco. Gotti 5% di vita? What? No, qua c'è il boss. Io morirò. Continua. No, eh. Io non ho visto nessun... Guarda, già lì che mi aspetta lui. Oh. Oh, finalmente gli scheletroni. Mi mancavano gli scheletri. Vai, vai, vai che c'è il knockback. C'è il contrattacco. Vai, 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 vai. Questo come salgo io qua? Ah, ti arrampichi. Ok. Vabbè, siete stupidi. Però c'è il danno dei mostri. Io non l'avevo visto. Sopra c'è il danno. Grande. Vieni, vieni. Sapevo io. Stupido essere. Qua sotto? Bello, bello. Qua non si può andare. Ah, qua ci sono gli ispidi-spidoni. Mi ha fatto una cazzata a scendere, sai? No! Mi ha fatto male. Dai, che checchio. Ah, arrambicazio. Era meglio salire da sopra. Mi ha fatto una cavolata io. Dai! Caditi. Cado, muoio? No. Tipo, potrei evitarlo così. I can't use my shield to deflect... Ah, ok. Aspetta, che non mi ricordo i tasti. Vedete se si possono deflettere... Ok. No? Oh, così. Qua dov'è l'altro? Eh, aspetta, aspetta. Uno. Non ce l'ho. No, ma non possono salire? Nah. Questo non mi piace. Dai, girati. Tanti sono morto. Grande! Ah, not bad. Naturalmente si inizia dall'inizio. Ah, doppio combo. Ah, ma lui è... velocissimo. Iperveloce, lui. Nell'arco. Nell'arco c'è qualcosa? No. Ok. Ah. Uno. E due. Così non prendo danno. Sto giocando con J, K, L, M, I. Ok. Muoriti. Stavolta andiamo di qua. Ok. Ho sbagliato tasto. Ecco. Ho premuto... Che ne so, la J a posto della L per parare. Ah, vaffanbagno. Ah, ma lì c'è una chest. Aspetta. Il problema è che siamo rimorti. Che arrivo qua con troppo poco vita. Ma possiamo fare così. Eh, no. Volevo fregare il videogame. Il videogame ha fregato te. O me. Peppere. Ok. 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 Eh, Johnny. Eh. Saliti. Beh. Brefetto. Uno. Due. Tre. Quattro. Così li butti indietro. Quando invece sono lì vicino non ce la faccio mai. Buttami indietro. Eh, Johnny Black. Ok. Ma prendo la vita ogni volta che li uccido? Vai, muori. No. Ok. Ok. Perché c'ho già metà vita? Facciamo così perché non voglio morire, va? Perché c'ho già metà vita? No, sono sceso. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è una chest sotto. Che ci faccia la vita qua. Bravo. Uno. Mi sto trofizzando le mani per combattere. Però va bene. Ce l'abbiamo fatta. Qua c'è qualcosa? No. C'è il segreto da qualche parte. Questi sono forti, eh. Eh. Ci sono i topi malefici. Sì, qua. Ok. Poi c'è lo spadaccino, spadaccio. Tante potion. Ah beh, però sono full vita. Non so come, ma sono full vita. C'è qualcosa. C'è qualcosa qua. Fenn, Fenn, rampi questo. No. Il segreto. Eh. Beh, beh. Ah, qua c'è l'ambascia. Ok. Ho premuto la K un po' di volte compulsivamente. Questo? Oh, figo. Vai. Vai. Johnny Black. Johnny. Mi sta a fare il culo? Uno. Deve che apparebbe una tempistica. Questo cosa fa? Ah, è il checkpoint. Sicuro. Ecco. Ah, tipo corri. Ok. Ma è sicuro che sotto non c'è il coso? Ecco. No, era per provare. E che mi sono confuso con i tasti. Ma lo sapete? Poi così abbiamo notato che sotto non c'è niente. Non lo puoi fare più di una volta la scivolata. Tipo qua sotto. Qua ci sarà sicuramente il segreto. Però non voglio tediarvi con i segreti. Quindi andiamo avanti col gameplay. Oh. È morede. Ah, ma siete in due. Aspetta. Questi sono velocissimi. No, ambusha. Ambusha babusha. No. Ha detto una brutta parola. Ha detto una brutta parola. Ha detto cal... È stato lui a dire una brutta parola. Vabbè, visto che siamo qua, adesso una volta potremmo anche morire per vedere se c'è un segreto. No, non ce n'è. Tanti il caricamento è veloce. Aspetta, aspetta, aspetta. Che già l'ho fatto. Ma c'ho il mana? Ok. Dove sono le lettere? Quello l'ho ucciso subito. Vedere questa. Ok. L'ambusha non c'è più. Ma sono andata avanti? Questa mi porta a full vita. Eh, io sbaglio sempre con... Ok. Dai, andiamo sopra. Eccolo qua, il segreto. Abbiamo trovato il secondo segreto, signori. Eh... Open a tab. Ottimo! Potremmo... Potremmo anche saltare di qua, volendo. No. Non ce lo permette. Vai di qua. No. Ok. I segreti sono più facili di quello che pensassi. Ora, stiamo attenti perché questi qua attaccheranno subito. Dov'è la L? Ma sentite la chitarra elettrica a metal che c'è sotto. Che cacchio è successo? Vabbè. Devo fare la I? Eh... Doppio noback è difficile. L'ambascioni li prendiamo da dietro. Da distanza. No, da distanza è un cacchio. Curiamoci. Andiamo full vida, signori. Check bond. Muoriti. Ah, ma c'era il full vida qua. Cos'è sta roba? Boom. Che è successo? Cos'è? Ma che è? Sembra tipo una specie di portale checkpoint. Non ho capito. Eh, io continuo a prendere vita e ucciderli. Vabbè. Ah, tipo... Un'arena. Un'arena. Ahia. Freccina. Dammi la cuore. Sono iperforti questi cosi. No! Victory! No! Eh. Secondo voi qua ci possiamo andare? Sì. Chi è questo? Un mercante? Ah, ma stavo parlando ancora. Ero in fase di parlacchia ancora. Aspetta, aspetti. Ci posso parlare ancora? No. Finito tutto. Ok. Checkpoint. Che si è chiusa la porta. Pioggia. Mettiti lo scudo sulla testa, no? Bossino! No! È girato! Ma come? Bene, bene. Ma era proprio da morire. Cosa? começa. E' Da! E' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa sono? 5 di Arkano. Ok. Arkano Fireball. Quindi... Ma do con la Q! Ma come cavolo puoi fare una cosa del genere? Q-F-R-C-T-B-R-K-K-S! Ma è impossibile! No, ma... Eh, ma... Banana! Ma non posso... Oh! No, ma... Come faccio a fare la Q! La X! La V! La W! Ok, è bellino il gioco! Ma i tasti sono di vorrendi! Chi potesse do premio lo scudo? Ok, vai! Lo scudo è quella L! Eh! E questo qua come faccio a schivarlo? Oh, un colpo non gliel'ho dato, eh! Non riesco a dargli un colpo! Neanche se salto! Com'è? Aspetta, forse ho capito! No! Ma c'ho una mano di travertino! Aspetta, facciamo la mano di travertino! Quella devo cliccare la mano di travertino? Ti! Ti! Eh! Ah! Sono i tratti! Ah! Aspetta! Tanto adesso lui si sposta! Ok! Kill the Reaper! Non... Ok, questo lo riesco a bloccare! Questo se ne va di là, io scappo! T! No! K! 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 Sto cercando di fare qualcosa! Però... Ok! K! Non c'ho più K! Oh! Ho colpito! Signore, l'ho colpito! Qua basta che salta! Ok! Allora, lui si gira! Io me ne vado! Mi si gira! Da il colpo! No, mi segue! Ok! Da il colpo! Dove c'è caro! Il colpo! Il problema lo sapete cos'è? E che è? E che è? Sperto! Passiamo al mouse! Ok! Vediamo se col mouse ce la facciamo! Q! Non si fa niente! Ok! Bloccato! Saltiamo! Ok! Ma si può... Si può knock beccare questo scemo? No! Vediamo? Sì! No! Non si può knock beccare! Ma mi è dato sta magia, ma... Vittoria! Ho vinto! Sì! Vittoria così! Col mouse! Va bene, va bene, va bene! Abbiamo vinto, signori! E... Quando uno si vince, si vince! Cioè... Andiamo qua, vediamo cosa succede! Ancora! Ho vinto contro il tuo capoccia! Secondo te mi fai paura tu! Ma leva, ti va! Ah! Ma c'è l'assalto! Ma si ammazzano fra di loro? Ma sto di ando' iperpotente! La sagra sindrome di... Travi to... Little Purple! Ah! All Decken Cemetery! Ok! Tipo... Tipo heavy metal! Sì, ci sta! Ah! Bene, signori! Io direi che per oggi è tutto! Naturalmente è una preview! E quindi non lascerò nessun commento, nessun feedback su questo gioco! Anche se me, a dire il vero... Non è malaccio! Il problema sono i tasti, le combo, troppe combo, troppi tasti e sarebbe meglio perché poi c'è la Q, la T, la J, la K, la L, la I, Q, E, R, T... È un casino! Quindi magari si potrebbe migliorare un po' su questo, però ognuno ha i propri gusti! E quindi credo di chiudere il gameplay qui! Spero che vi sia piaciuto! Vi lascio il link di Steam in descrizioni! Come sempre, se volete iscrivervi o lasciare un commento o un like, è sempre un bel accetto per supportare il canale! E come sempre, siete mitici! Alla prossima! Bye bye!